in diretta le 7 del mattino c'è la rassegna stampa sul canale 17 di fano tv buongiorno cari telespettatori ben ritrovati ben alzati se state facendo colazione in questo momento per iniziare una nuova giornata allora benvenuti perché vi stiamo informando tra poco vi informeremo su quelle che sono le notizie più importanti selezionate da noi per dai quotidiani carlino il corriere adriatico e allora andiamo subito a vedere il santo del giorno poi le previsioni del tempo oggi la chiesa ricorda la natività della beata vergine maria il sole è sorto alle 6 42 tramonterà le 19 e 34 beh sul fronte del tempo c'è poco da dire avremo giornate da qui alle prossime insomma i prossimi dieci giorni saranno sempre e comunque caratterizzate da tempo soleggiato oggi vedete il bollettino prevede sole su tutta la costa così come domani mercoledì e giovedì quando però saranno possibili non si sono isolati piovaschi soprattutto il pomeriggio ritosso dei rilievi quindi dei monti a sud della nostra regione forse un po di instabilità per quanto riguarda la giornata di venerdì ma di questo ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni intanto sulla costa comunque bel tempo e niente pioggia dunque c'è anche il problema della siccità ma chi l'acqua ce l'ha sempre con sé ci lavora anche con l'acqua e il nostro bagnino Tommy buongiorno oggi come va vedo che c'è il mare increspato questa mattina che è successo stanotte non lo so stamattina sono arrivato e aspettato un po' anche me io mi aspettavo il mare calmo questo mare un po mosso e qualche nuvolone alle spalle quindi sono stato smentito sul fatto proprio io ho appena detto letto il bollettino con sole per tutta in realtà qua sembra la situazione un po' diversa però dai tutto sommato non dovrebbe peggiorare comunque ma ecco per chi ha la possibilità ancora di qualche di passare qualche ora al mare oggi sarà una bella giornata il mare si sta ancora benissimo la calzatura è quasi al concolietto quindi ancora al mare ci si può andare allora grazie Tommy noi ci vediamo domani mattina e auguro a te e a tutti i tuoi colleghi di tutta la costa adriatica non solo quella che ci riguarda in particolare con il pezzettino di fano insomma la parte dei bagni carlo ma tutti quelli che ci seguono dalla costa adriatica auguro a tutti voi un buon lavoro adesso i giornali i giornali con il resto del carlino che apre con la politica si fa per dire perché comunque sono riguarda sì una candidata alle prossime regionali ma ma che ha ricevuto insulti addirittura a luci rosse lettera anonima e commenti sessisti pubblicati sul web contro sabrina santelli in corsa per le regionali lei dice vergogna centropagini invece alla faccia dei banchi arredi in ritardo le scuole si arrangiano dunque ancora problemi mancano pochi giorni l'uno di prossimo rientrano gli studenti nelle scuole nelle classi ma come le troveranno intanto si lavora davvero giorno e notte per fare in modo che tutto sia all insicurezza e al meglio tornando sempre sulla sempre sulla prima pagina del del giornale caos prenotazioni ora la speranza è sul nuovo cup ci sono ancora proteste ieri si è bloccato il sistema ancora un'ora in mezzo alla giornata quindi potete immaginare quello che è successo tutte le persone che erano lì per fare le prenotazioni le visite insomma si sono dovute hanno dovuto aspettare palazzo ducale direttore in arrivo poi la cronaca di spalla va in moto centrato da un'auto in prognosi riservata è successo in via l'ombroso a pesero e poi a fano invece l'arzilla a secco morì a di pesci la situazione così come dicono i residenti non l'abbiamo mai vista e poi il corriere adriatico l'apertura è sempre per la scuola il puzzle degli alunni gli istituti superiori in autonomia stanno definendo il calendario per la riorganizzazione della didattica al marconi metà studenti in classe e l'altra a distanza settimana corta invece al cecchi che il sabato chiuderà ma a muraglia invece e a borgo santa maria le strade sono pericolose ieri c'è stato un incidente vedete lo scooter qui a terra lo scooterista è rimasto ferito terminato il fermo pesca il sindaco di fano in porto ad accogliere i pescatori san pietrino saluta ma in centro e mare la movida resiste e a fermignano esplode un grosso petardo si cerca adesso una baby gang allora lo schianto all'incrocio questa è la cronaca sul carlino grave un 59 n è un incidente che è venuto ieri intorno alle 13 e 10 in via lombroso a muraglia un 59 n di pesero in sella al suo piaggio nexus andava verso il centro città si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da una mazda guidata da una donna di 36 anni di pesero poi invece sul corriere adriatico con l'auto finiscono in un giardino l'auto che vedete nella fotografia è quella che si è schiantata nel punto del giardino di questa casa illesi gli occupanti sono è un gruppo di giovani immigrati comunque regolari stavano andando a giocare a calcetto il sinistro è avvenuto sulla cesanense a sterpettine la strada lì dicono i residenti è pericolosa siamo dalle parti insomma di dalle parti di marotta invece a fermignano e qui siamo sulla pagina di urbino del correo adriatico un fatto che vi abbiamo raccontato anche ieri sera nel nostro telegiornale c'è stato un forte boato nella notte una baby gang cioè dei ragazzini hanno fatto esplodere un grosso petardo l'esplosione in via primo maggio l'indagine adesso è dei carabinieri il sindaco feduzzi dice troveremo i colpevoli a luglio il parchetto è stato devastato e mentre sulla pagina di fano barche in mare problemi a galla finito dopo 38 giorni il fermo pesca se ripresente al porto grande forza nonostante le norme restrittive i giardini della col di retti dice sempre meno sogliole trigli e gamberi allo studio un ulteriore blocco delle attività infatti ogni anno questo è un problema che si rinnova ci si interroga soprattutto tutte le volte che si fermano i pescherecci e ripartono dopo 40 giorni si si interroga se insomma questi fermo pesca siano utili ma soprattutto in questo periodo termoscanner invece mense attive nidi aperti in anticipo interessati circa 200 bambini e 5 plessi comunali una vera prova organizzativa il comune di fano ha deciso di anticipare i tempi per quanto riguarda la riapertura degli asili nido e ha voluto fare insomma una sorta di test che però ha funzionato bene tutto andato secondo le previsioni e questo consente il prossimo 14 di settembre di avere sicuramente un problema in meno che è quello appunto degli asili di nido che già sono quindi aperti andiamo sulla pagina adesso del resto del Carlino sempre a Fermignano però Fermignano scopre l'ascensore scopre tra virgolette ovviamente è stato installato in comune dopo decenni di attesa nuovi interventi contro le barriere architettoniche nei prossimi giorni intanto sarà eliminato un vecchio ostacolo che può creare problemi ai disabili mentre il sindaco Feduzzi dice a breve ne sarà messo uno anche alla biblioteca ora sistemiamo i marciapiedi la pagina di Fano del Carlino si occupa questa mattina di questa vasca di prima pioggia molti l'avranno vista soprattutto quelli che frequentano e viaggiano sulla statale 16 Adriatica siamo poco prima di Gimarra andando verso Pesero rimane sulla sinistra bisogna farci caso ma venendo da Pesero invece ovviamente sulla destra forse si vede meglio perché rimane più semplice da vedere dalla strada ora questa grossa buca realizzata da Aset poco prima del ponte della statale sul torrente Arzilla sta preoccupando i vari residenti e anche qualche turista viene realizzata praticamente quest'opera che è un contenitore di 1600 metri cubi per incanalare il torrente al depuratore dopo di che questa buca così questa vasca enorme di prima pioggia a un certo punto verrà tombata verrà sigillata sopra e verrà messo il coperchio ecco possiamo dire così per realizzarci poi un ampio parcheggio però questa mattina il giornale dà spazio in particolare alle persone che lì vi abitano quindi raccontano questi mesi in cui ci sono stati questi lavori come mesi trascorsi un po' terrorizzati dalle vibrazioni che hanno sconquassato le case come se fosse un terremoto e da qualche giorno è comparsa anche una frana e secondo loro questa buca andava fatta lontana dalle zone residenziali sotto invece restando sempre lì sul torrente Arzilla sempre il giornale Il Carlino si occupa invece della moria di pesci che è stata causata ovviamente dal fatto che l'acqua non c'è l'Arzilla è a secco, l'Arzilla è un piccolo torrente e chi abita lì dice mai visto un disastro come questo la siccità sta prosciugando anche i pozzi e stanno sparando le tre vene d'acqua sparendo scusate le tre vene d'acqua che sono sempre esistite e c'è Sergio Carboni che abita da quelle parti che dice quello che la siccità parte quello che mi dispiace è che è lo stato di abbandono in cui è stata lasciata l'Arzilla negli ultimi vent'anni nessuno sembra volersi interessare di questo torrente è un torrente che ha una portata d'acqua piccola in tempi normali ma quando si arrabbia perché piove e quando piove molto è un torrente che spesso e volentieri mette paura parliamo di sanità invece sul resto del Carlino questa mattina il giornale si occupa del caos spesso prenotazioni tante sono anche le segnalazioni che arrivano qui in redazione su questa questione sul CUP che è il centro unico di prenotazione tra l'altro c'è anche il problema in questi ultimi mesi del lockdown del blocco che ha di fatto azzerato tutte le prenotazioni quindi immaginate voi tutte le persone in attesa di fare queste visite specialistiche eccetera che ogni volta devono armarsi di pazienza andare al CUP oppure mettersi al telefono e perderci le ore e ore e ore ieri ci sono state scrive il giornale ancora lamentele anche per il servizio zero code però attenzione dal 19 settembre è annunciata la rivoluzione ma funzionerà davvero si domanda il giornale questa mattina Silvana Spagnoli scrive mentre sta decollando il servizio di prenotazione in farmacia e quello che utilizza l'app informatica grandi speranze ora sono riposte sul nuovo centro unico di prenotazione che partirà dal prossimo 19 settembre che cosa cambierà rispetto al precedente CUP? l'evoluzione tecnica del software quindi parliamo di computer su cui la regione ha investito una parte consistente dei 16,8 milioni stanziati per questo progetto e lascia credere che le procedure saranno più rapide e ci sarà un numero più alto di operatori possibili con l'uso del telefono ora dal punto di vista del numero degli addetti e impiegati a rispondere non cambia niente sarà identico anche il numero delle linee telefoniche e di operatori di call center concentrati nelle sedi di Pesero e Fermo però, attenzione, nella gara d'appalto sono stati fissati i tempi di risposta richiesti dalla regione e questi sono importanti il 90% delle telefonate al CUP dovranno essere intercettate dall'operatore entro 240 secondi, quindi 4 minuti ed almeno il 70% entro 90 secondi va bene? quindi 90 secondi parliamo di un minuto e mezzo quindi mi pare che sia ragionevole da questo punto di vista ora, sono paletti fissati nella gara d'appalto quindi chi la vince dichiarando che rispetterà questi tempi poi deve rispettarli, altrimenti ci sono le sanzioni quindi direi che dal 19 forse sarà la volta buona poi ricordiamo però che c'è anche la questione del servizio prenotazioni in farmacia e quello che utilizza l'app quindi c'è anche l'app, quella che si scarica sui cellulari però è chiaro che poi molti di questi marchi ingegni ne sanno poco e quindi preferiscono andare di persona oppure al vecchio caro telefono parliamo dei positivi invece della situazione del coronavirus nella nostra regione i positivi ora sono 387 il virus nelle Marche è ancora sotto la media italiana ieri ci sono stati sei contagi pochi a dire il vero però erano pochi anche i tamponi 348 i ricoveri per Covid salgono da 15 a 17 l'incidenza settimanale supera di poco la metà del dato nazionale tra i casi accertati anche due rientri di viaggi da viaggi in Romania ma c'è solo un paziente che ha bisogno di cure in terapia intensiva andiamo nell'altra pagina del Corriere Adriatico sempre sul tema Covid da Senigallia un albergatore è stato ricoverato per il Covid-19 nessun contatto recente con i clienti Mario Tassi dell'hotel Argentina ha una polmonite l'Asur ricostruisce tutte le presenze e adesso quelli dell'albergo dicono chiuderemo prima dunque il noto albergatore che ha 83 anni si è sentito male domenica pomeriggio un'ambulanza ha soccorso nel suo albergo sul lungomare a Ligliere e a Senigallia portandola al pronto soccorso cittadino dove è stato sottoposto ad accertamenti e al tampone come è da prassi è emerso che aveva la polmonite ed era positivo al coronavirus per cui è stato trasferito come da protocollo nel reparto di malattie infettive al Torrette di Ancona il figlio Alberto dice era chiuso in stanza da una settimana per altri problemi di salute le scuole sempre dal Corriere Adriatico il Cecchi chiuderà il sabato il Marconi invece si divide decisioni diversificate per rispettare la sicurezza degli alunni e le esigenze dei trasporti al liceo scientifico soltanto la metà degli alunni sarà presente in classe il resto invece a casa gli istituti superiori pesaresi dunque stanno ormai mettendo a punto le ultime cose ora speriamo che tutti tutto il popolo degli studenti che notoriamente è sempre sui social e quindi sui telefonini quindi spero che sappiano siano informati e che ogni tanto leggano o guardino qualche telegiornale perché comunque si parla di loro si parla anche di come dovranno andare a scuola di che cosa li attenderà e quindi speriamo che siano preparati in questo perché comunque come vedete ogni scuola, ogni istituto va un po' per conto suo chiaramente organizzati e non in ordine sparso così alla cieca per i ragazzi invece il primo contatto sarà con il musical al Marconi da giovedì sera ci sarà uno spettacolo dal titolo A forza di essere vento nel cortile del liceo mentre la disciplina sulle mascherine il regolamento ne spiegherà l'utilizzo termoscanner e igienizzanti al campus scolastico mi pare quindi di aver capito che un po' tutti gli istituti hanno ormai si sono dotati di questi termoscanner più o meno un po' come avviene negli aeroporti dove c'è tanta gente che ogni giorno entra e esce va e viene e quindi già di per sé anche la misurazione della temperatura è già un qualcosa poi sappiamo che ci sono gli asintomatici quindi non segnano nessuna temperatura elevata e di conseguenza magari hanno il virus ma non lo sanno scuola bus scolaretto sale la sorellina invece non può siamo sulla pagina di Fano del Resto del Carlino l'incredibile caso di due bambini di prima e seconda elementare della scuola Montessori l'ufficio seleziona in base alle distanze ora non vi sto a leggere tutto quello che è successo il principio riguarda una regola del 2020 che è quella di portare i bimbi alle scuole zonali e non ad altre il fratello maggiore essendo il bambino iscritto alla seconda elementare avrà il servizio assicurato quindi chi vuole approfondire un po' la questione e capire bene il perché di questa quella che può sembrare un'ingiustizia ecco può leggere l'articolo sul giornale intanto anche qui il Carlino ricorda che sono stati già aperti a Fano i nidi comunali con una settimana d'anticipo facciamo felici i bambini c'era un'esigenza molto sentita di socialità a cui dovevamo dare una risposta certamente i bambini che tornano a scuola dopo tanto tantissimo tempo è sicuramente un momento di festa per quanto riguarda il Mercatone 1 sapete è chiuso a Pesaro il Mercatone 1 una catena di grandi negozi che è chiusa e fallita il Mercatone 1 adesso spunta l'ipotesi Decathlon voce di interessamento di un interessamento per il capannone di via Montefeltro a Pesaro ma intanto i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori la catena di articoli sportivi potrebbe essere interessata a subentrare nel capannone che si trova in via Montefeltro per ora sono soltanto delle voci che restano le uniche novità rispetto alla gestione commissariato del gigante della grande distribuzione arrivata ad un punto morto almeno per quanto riguarda Pesaro e c'è qualcuno che dice soprattutto quelli del sindacato, la CGL restiamo aggrappati alla cassa integrazione che è in scadenza il prossimo 23 di novembre e chiedono che sia prorogata per almeno altri 12 mesi poi domande entro fino a settembre per i fondi turistici contributi in arrivo il bando è stato pubblicato dalla Regione lo ha pubblicato recentemente sono per iniziative turistiche e attività che riguardino manifestazioni ed eventi di particolare interesse ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica territoriale e i beneficiari sono gli enti locali le associazioni di categoria del settore del turismo le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale e le associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali che avranno tempo fino al 30 di settembre per presentare una domanda e per ottenere il contributo a Urbino invece il Palazzo Ducale avrà il nuovo direttore a breve terminati gli orali per i candidati urbinati l'annuncio forse prima delle elezioni regionali l'attuale direttore pro tempo lascerà l'incarico dopo la nomina del vincitore dunque Galleria Nazionale delle Marche e Polo Museale delle Marche torneranno ad avere in tempi ragionevoli un direttore i candidati hanno presentato domanda hanno già sostenuto la prova orale il 4 di settembre scorso ma i colloqui vanno avanti per i candidati di altri musei fino a giovedì 10 dopodiché per tutti i 130 candidati verranno a conoscenza del risultato e sarà reso noto anche il nuovo direttore di Urbino ancora sotto dalla pagina del resto del Carlino gli Aquiloni il Covid non li ferma ma per quest'anno la festa ha cambiato anima e forma domenica il cielo è tornato colorato con tanti lanci fatti dalle singole contrade e mantenendo le distanze Giorgio Baldi dice nascerà il kit della cometa Urbinate siamo alle pagine di sport l'Alma contro l'Ascoli a porte chiuse per i tifosi i lavori impediscono l'accesso ai sostenitori intanto la società Granata aspetta le mosse dei bianconeri per il mercato dunque a differenza della Vispesero che domenica ha giocato l'amichevole con l'Ascoli di fronte al proprio pubblico l'Alma giovedì prossimo scenderà in campo al Mancini sempre contro i bianconeri in uno stadio vuoto il motivo è da ricercare nei lavori di manutenzione in corso di esecuzione all'interno dell'impianto da parte del Comune di Fano in questi giorni verrà montata di nuovo la tribuna in tubi innocenti riservata agli ospiti che dovrà servire fin tanto che non sarà non si procederà alla completa ristrutturazione del settore gradinata i cui lavori dovrebbero iniziare proprio a giorni e sotto invece la San Cristoforo a Fano la San Cristoforo a Fano è campione d'Italia Juniors parliamo di Bocce è un trionfo a Roma è finita in gloria questa spedizione romana dei giovanissimi bocciofili che si sono laureati campioni d'Italia Juniors a squadre sul fronte della Vis un centrale all'altezza Brignani ultimo acquisto classe 98 fisicamente prestante ex Cesene Pisa in prestito dal Bologna rinunciato alla B per giocare a Pesero qui voglio fare una stagione da protagonista adesso stop per 20 giorni per quanto riguarda il mercato sostituire Voltan non è un obbligo ci riteniamo comunque completi nei vari reparti una bella ora di calcio sfiorando il raddoppio il DS Crespini e le risultanze del test contro l'Ascoli per Calderisi soluzioni diverse in ogni zona del campo mentre il basket la VL passeggia contro la Virtus Roma la Carpegna Prosciutto vince per 104 a 73 Repesio manda in campo tutti i giocatori quindi compresi i più giovani tempi lunghi anche per le seconde linee e sulle seconde linee dice non mi è piaciuta la mentalità dei giovani poco aggressivi il tecnico croato nonostante la larga vittoria non ha visto bene l'atteggiamento delle seconde linee forse un po' demotivate essendo proprio appunto cosiddette seconde linee come dire quando entriamo e allora questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa noi ci fermiamo qui l'informazione torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti